Sindaco De Palma, le bellezze della Puglia al servizio della Federazione Ciclistica? No, un po' la verità, la Federazione Ciclistica al servizio delle bellezze della Puglia, perché questo è il frutto del famoso patto di mattinata che è stato firmato a novembre scorso, da 26 sindaci alla FederCiclismo, ora siamo arrivati a 81 comuni che hanno aderito a questa pianificazione strategica, condivisa con l'assessorato allo sport e al turismo della Regione Puglia. Chiaramente ispirato dal Presidente Emiliano che ha visto da diverso tempo per la verità la bicicletta e quindi soprattutto il mondo turistico che si muove intorno alla bicicletta come una grande opportunità di incrementare i flussi turistici, soprattutto con quell'idea di Puglia 365, ovvero portare turisti in bicicletta in bassa stagione, quindi tralasciando l'estate che normalmente è già caotica e soprattutto intensa da un punto di vista di presenze e privilegiando la primavera e l'autunno che in Puglia è molto mite, soprattutto per chi viene dai paesi nordici, per loro è quasi estate. Quindi l'idea di abbinare le grandi manifestazioni sportive come queste, le manifestazioni soprattutto che si svolgono all'aria aperta, a quell'idea di presentare il territorio come un utile strumento per rendere felici chi vuole fare turismo esperienziale, che sia in bici, a piedi, un'altra modalità, credo che sia un'idea vincente che la Puglia sta portando avanti con grande convinzione. Io sento di ringraziare il Presidente, il Vicepresidente Piemontese e il nuovo Assessore Lopane con il quale stiamo lavorando in grande sinergia e quindi il campionato italiano è una delle ciliegine. Poi ci sono le torte che sono date anche dalla passione delle società di base che permettono di poter sviluppare questa iniziativa.